Ha preso ufficialmente il via nei giorni scorsi la campagna di raccolta di capitali da parte dello spin-off Unicam BioVecBlock attraverso il portale www.nextequity.it, piattaforma online che sostiene la crescita di start-up e imprese innovative tramite l'adesione di soci finanziatori. I ricercatori di BioVecBlock hanno sviluppato dei composti naturali in grado di combattere con altissima efficacia le zanzare responsabili di malattie mortali quali la malaria, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. L'iniziativa è stata presentata ufficialmente nei giorni scorsi presso la sede della Simonelli Grupa Belforte del Chienti, alla presenza tra gli altri del rettore Unicam Claudio Pettinari, del direttore generale Vincenzo Tedesco, del presidente di Confindustria Macerata Gianluca Pesarini e del padrone di casa Nando Ottavi. Hanno messo a punto prodotti non tossici per l'uomo e per l'ambiente che potranno aiutare governi, comunità e singoli cittadini in tutto il mondo a proteggere la salute delle persone e assicurare una migliore qualità della vita. L'obiettivo di BioVecBlock è la titolarità dei brevetti che verranno poi concessi in licenza ad aziende di settore per la produzione industriale.